Chi ha accetto la luce? Come se fossimo a casa nostra. Raga, ma vi rendete conto? E qua ci abitavano. C'è la luce. Raga, c'è la luce. Io non apro il frigo perché non oso immaginare lo schifo che c'è. Bella, raga. Qua è Savix che vi parla con il nuovo video di esplorazione. Se questa clip vi ha incuriosito, andatevi a vedere sul secondo canale il video che è appena uscito, ragazzi. E acciaccate sto cazzo di like e iscrivetevi. Bella, raga. Alla prossima. Link in descrizione.